ciao fragoline nuovo video allora è un video un po diverso perché voglio farvi vedere come far crescere la pianta di avocado non è difficile e ci vuole tanto impegno allora vi faccio vedere il prima della pianta che è praticamente questa che non si vede faccio rovesciare tutta l'acqua comunque il prima il prima di questa pianta per farvi capire e il dopo questa è la pianta che sta crescendo piano piano la pianta di avocado è bella grande ha tante radici e dato che deve ancora crescere ci vuole un bel po ma deve crescere crescere ancora di più scusate per il mio cane per cui vi faccio vedere come far crescere una pianta vi faccio vedere come cresce una pianta di avocado come far crescere questa pianta per cui adesso vi lascio tutte le clip ovviamente dato che ci vuole il tempo non è ancora finito questo video finisce con che la pianta è ancora in crescita così per cui per farvi capire quando crescerà di più che lo possiamo piantare poi piano piano vi farò vedere l'altro procedimento cioè la seconda parte per cui vi lascio le clip e vi faccio vedere il prima della pianta di come cresce e come va diciamo fatta crescere e il dopo di della piantona che è cresciuta detto questo io vi lascio il video e ci vediamo poi nel prossimo video nella seconda parte quando si pianterà appunto nella terra per cui buona visione allora prendete il nocciolo lo lavati e lo lasciate almeno per 24 ore a seccare infatti come vedete ormai sono passate quasi 24 ore e il nocciolo si è seccato diventato praticamente marrone comunque aspettate almeno un giorno così si secca bene e poi va tirata via la buccia tirate via la buccia di prima questo lo lasciamo perché dove cresce poi la piantina che fa le radici mettiamo presto zicadenti allora dato che qua c'è il segno qua ci sono dei segni delle righe non lo vedete ci sono due righe a parte uno di qua e uno di può lo vedete non dovete mettere lo stuzzicadente dove c'è la riga perché la riga serve per crepare il nocciolo e per far sì che viene in poche parole la radice sotto perché poi si rompe a metà e poi sopra cresce la piantina per cui ovviamente voi dovete allora questo che vedete il nome dovete metterlo a testa in giù qui ma si vede ci sono due crepe dovete mettere lo stuzzicadente di fianco lo bucate non metterlo dentro tutto perché così si riesce ad aprire per cui mi raccomando non coprite la riga ma mettetelo a praticamente come sto facendo io lo mettete del dentro senza ovviamente andare in fondo io ne metto tre li mettete così ne mettete tre perché adesso vi faccio vedere ovviamente dove vanno ne mettete tre lasciate le le due righe di lato mi raccomando non mettete lo stuzzicadente perché sennò non non si aprirà mai e questo è quello che dovete fare se diventa arancione non vi preoccupate perché ovviamente perché abbiamo tirato via la buccia ed è così adesso vi faccio vedere come va messo in acqua grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete tocca l'acqua perché deve essere, diciamo, cioè non è che deve essere immerso, deve praticamente toccare là. L'acqua deve essere fredda, voi appoggiate il nocciolo sull'acqua. E dobbiamo aspettare almeno due o tre mesi che piano piano inizia a fare il bocciolo sotto per far sì che poi... perché poi dopo diventa praticamente... sotto diventa la radice, in poche parole, piano piano fa la radice. Io l'ho messo sia in questo che in questo qua. Per cui dovete solo appoggiarlo. Così almeno quando cresce piano piano sotto qua vedete le radici che piano piano si faranno. Per cui aspettiamo due mesi, barra tre, dipende dal nocciolo. Se il nocciolo non fa radici e non fa niente, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Grazie. Grazie. Allora, dato che il bicchiere è troppo piccolo, voglio metterlo nei vasetti più grandi, trasparenti, così almeno vedo le radici. Per cui adesso cambio gli stuzzicadenti che ovviamente sono un po' rotti, li metto nuovi e poi ovviamente faccio il cambio e lo metto qua dentro. Calcolate che deve ancora crescere perché ancora così sono troppo piccole, per cui deve essere bella lunga. Quando è bella lunga possiamo piantarla e ovviamente deve essere anche verde. Qua adesso è ancora marrone, per cui faccio il cambio. E calcolate che sono cresciuti belli. Questa è un po' moscetta perché devo cambiare l'acqua. Facciamo il cambio. Adesso ho messo l'acqua fredda e vediamo. E voilà. Adesso la pianta è dritta. Ho messo tre stuzzicadenti perché così non resta dritta. Così riusciamo a vedere praticamente le radici. Poi il dato che i vasi sono belli larghi, secondo me, si fa prima. E praticamente è così. Dentro. Invece di qua, questo si deve ancora riprendere. Anche questa, tre stuzzicadenti. E sto facendo le radici. E adesso aspettiamo. Anche questa, tre stuzzicadenti. 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 Grazie a tutti.